E' un'ora che aspetto davanti a quel volpe, tu trova una scusa per farmi entrare. Fatti mandare da Fabiani a prendere le chiavi e non fare una domanda che riguarda la squadra. Tu riesco ad entrare dentro assù, insieme a questi, lentamente contro umano, siete giù lì al campo. Diggialo dito che sono curioso e il mio lavoro non faccio un abuso. Fatti mandare da Fabiani a prendere le chiavi e resta scendi, dai a piase, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Grazie. Grazie.